È come se si dovesse incontrare il Bitonto, non è certamente una partita semplice, lo sappiamo, penso, l'abbiamo preparata bene, quindi dobbiamo andare con grande attenzione, con grande determinazione perché sarà una battaglia. C'è di nuovo il grumento Baldagri sul cammino della Fidelis a distanza di quattro mesi dal precedente dell'andata, quello giocato e perso sul neutro di Gravina, quello che inaugurò il momento nero e la serie di cinque sconfitte consecutive dell'Andria, questa volta, cioè domani, a partire dalle 14.30, le due contendenti si affrontano a Marsico Vetere e il domicilio dei Lucani in uno scontro direttissimo in chiave salvezza. I Biancazzurri ci arrivano con una serie aperta di tre risultati utili consecutivi, tra l'altro senza subire reti e con due punti in più rispetto agli avversari della venticinquessima giornata. Servono ancora prestazioni importanti come abbiamo fatto nelle ultime tre partite, quattro partite, è chiaro che adesso i punti per noi sono pesanti, affrontiamo una partita non semplice, una partita dove troviamo una squadra ben attrezzata, una squadra che è cresciuta anche come personalità durante questo campionato, è un campo non semplice da tenere, è chiaro che noi abbiamo bisogno di continuare, di fare risultato, di fare una grande prestazione, perché il cammino è sempre lungo. Sarà per la Fidelis il primo atto di un ciclo fondamentale nella rincorsa alla salvezza diretta, a seguire infatti il collettivo di Giancarlo Favarino ospiterà il Fasamo Alvito Curlo, poi sarà di scena in Salento contro il Nardò. Per evitare i play-out, missione, tornata alla portata con gli ultimi sette punti, l'Andria deve fare bene anche con la valigia da viaggio. Qualche punto dobbiamo prenderlo fuori casa, che sia domani o dopo la domenica successiva, perché abbiamo bisogno di incrementare questa classifica, di vedere un pochino meglio anche la nostra posizione e soprattutto sugli scontri diretti cercare di prendere punti. Favarino, in partenza, dovrebbe confermare il 3-5-2 come sistema di gioco, anche se approvato in settimana delle soluzioni alternative, magari utili a partita in corso. Torna Giannini a centrocampo dopo la squalifica, Lanzolla è acciaccato, Ceclepo in pre-allarme per la difesa, Abbondanza invece in attacco, ma con ogni probabilità sarà confermato il tandem composto da Palazzo e Gulic.